che sarà il Maggiolini dell'Olanda, il Bonzanigo dell'Olanda, il Pelagio Pelaggi dell'Olanda, il Piffetti, bravo, bravo Tommaso, il Piffetti dell'Olanda. Ebbene, perché proprio in Olanda ci sono queste tazzie? Perché l'Olanda, che è paese che ama molto i fiori, lo sapete, uno dei simboli dell'Olanda è proprio il Tulipano, i grandi artisti olandesi nel periodo del primo 600 e poi Annare vengono in Italia, si innamorano dell'Italia, dei colori dell'Italia, dei fiori dell'Italia e danno vita a quella che è la famosa scuola fiamminga delle nature morte, dei grandi quadri, dei grandi capricci, del grande barocco e poi del rococò e via, 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 via. Eccoli dove nascono i mobili olandesi tarsiati a fiori. Ecco dov'è l'intelligenza. Ebbene, questa straordinaria vetrina, guardate per favore soltanto questi girali floreali che formano campo centrale di ogni cassetto, che cosa vi ricordano? dei cigni, dei cigni, vedete il fiore, il motivo della foglia di acanto, o di acanto che dirsi voglia, che diventa cigno. Questa è poesia allo stato puro, questa è bellezza allo stato puro, Questa è ricerca allo stato puro. E allora mi mandi per favore quella meraviglia che è l'invito al waltzer, perché io con questo mobile ci vorrei danzare, proprio perché vedi i fiori. Vai! E allora mi mandi per favore. E allora mi mandi per favore. Ebbene, 7.500 euro. E allora mi mandi per favore.